Salve carissimi amici tuttubi, sono Francesco e bentornati nella soffita di camera mia, benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi parliamo del Diabolic di gennaio, il primo numero di gennaio dedicato al nostro re del terrore, l'album intitolato Cappio alla gola, il soggetto e la sceneggiatura sono di Mario Gomboli e Tito Faraci, Tito Faraci ha curato completamente la sceneggiatura, i disegni sono di Barison, Montorio e Merati, la copertina è di Matteo Buffagni. Vedremo che questa copertina qui e la prossima copertina formeranno una cover unica, che comprende quindi il numero di gennaio e di febbraio, per quello che è un doppio capitolo. Vi faccio vedere giusto alcune immagini degli interni, disegni che come potete vedere hanno il classico stile di Diabolic, un pochettino vetusto, un pochettino datato, ma comunque sempre molto molto gradevole, molto adatto al tipo di storia raccontato. Sul retro abbiamo il personaggio di Emma, che sarà un pochettino la promotrice degli eventi di questo capitolo. Andiamo con ordine, di che cosa parla questo Cappio alla gola e il prossimo capitolo intitolato L'esca? Sono un'unica maxistoria che vedono Jinko cercare di fermare un efferato, un ospedatissimo serial killer chiamato Il Viaggiatore. Un serial killer che per qualche motivo, a un certo punto della sua carriera, giungerà a Clerville, compierà un brutale omicidio, ruberà un determinato oggetto, perché ogni volta che lui compie un delitto prende un souvenir a ricordo del crimine compiuto. Jinko ci terrà molto personalmente a cercare di fare giustizia e a vendicare la morte di Emma, questa signora anziana, e comincerà tutta l'indagine, un'indagine che procede anche per vie non del tutto legali, se vogliamo. Jinko non si farà scrupola a scendere anche a contrattare con elementi criminali della malavita di Clerville per poter fermare un criminale maggiore, un criminale più malvagio, se vogliamo, in qualche maniera, un serial killer piuttosto efferato. La vicenda, in tutto questo ovviamente ci sarà anche Diabolica, altrimenti non avrebbe senso dedicare un albo a questo caso qui nello specifico. Diabolica infatti voleva rubare uno degli oggetti che il viaggiatore ha a sua volta prelevato da una scena del crimine, e quindi interverrà a sua volta, cercando di non farsi scoprire, cercando di non far capire che anche lui è infilato in mezzo a questa storia, vuole rimanerne il più nascosto possibile, non vuole far risaltare il fatto che lui c'è di mezzo, anche se per vie traverse e non è legato effettivamente agli omicidi attualmente in corso. Per qualche determinato motivo questa storia qui si concluderà nel prossimo numero con un flash forward di due anni, o meglio, questo capitolo, Cappio alla Gola, è un flashback, è quasi completamente un flashback. Il 90% delle pagine sono ambientate due anni prima degli eventi che vedremo nel prossimo capitolo e sul finale di questo albo qui. finale che destra veramente molto interesse perché comunque la situazione, nonostante tutto, non si è conclusa, ci sono ancora delle cose che i nostri dovranno fare, sia Ginkgo che Diabolic per completare un po' quella che è la loro missione indipendente, subentrerà un personaggio, non vi dico chi, non vi dico cosa, che era comparso in un grande Diabolic di qualche tempo fa, e che mi era piaciuto e che ritorna in auge, non vedo veramente l'ora di vederlo all'opera anche nelle vicende presenti. Un primo albo che mi ha conquistato letteralmente, soprattutto per la visione strana, non usuale del personaggio, una chiave di lettura diversa dal solito, diversa dall'ordinario, cosa che mi ha fatto gradire veramente tanto questo grande Diabolic, che è questo Diabolic in realtà, questo Diabolic, che è, niente, mi ha veramente conquistato e non vedo l'ora di avere il prossimo tra le mani per poter completare questa storia in due puntate. E se un giorno si vede dal mattino, questa annata di Diabolic potrebbe essere veramente una grande annata. Lo spero per loro, io non so se seguirò tutta l'annata di Diabolic, non credo, non è mio interesse, però ecco, una storia particolare come questa ci stava alla grande. E non mi dispiacerebbe avere anche in futuro dei capitoli più legati a Ginkgo che non a Diabolic, con un Ginkgo che compie il suo lavoro di investigatore a tutto tondo anche senza Diabolic in giro. Sarà veramente impossibile trovarla in un albo intitolato A Diabolic, ma perché no? Questo è quanto avevo da dire per oggi. Qui sotto nei commenti ditemi la vostra, l'avete letto, vi interessa una storia del genere? E noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale. Ciao!